ciao e benvenuto al quarto video dedicato alla consapevolezza ritmica oggi andiamo a vedere il gruppo da 5 partendo dal note singole all'interno del gruppo da 5 poi andare le doppie triple quadruple e in mezzo anche le variazioni delle doppie delle triple e delle quadruple ce n'è una sola ok sempre con lo speed up per da 60 80 lo faremo per due minuti 3 4 e 5 e data 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 c'è un taggun taga 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 tag Taka 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 T Katta 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 Kat Tagaka tagadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad taga 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 stop bene abbiamo chiuso anche con il gruppo da 5 per questo video abbiamo fatto per due minuti mi raccomando si la va bene cerca di mantenere la stessa sillabazione anche se ovviamente la figura ritmica si sposta perché è dispari ovviamente su un gruppo pari 4 ok nel prossimo video andremo a vedere il gruppo da 6 e le sue variazioni ciao